l'ultimo giorno ragazzi buongiorno non so neanche perché sono in maniche corte c'è freddo ora stanno arrivando anche un po' di nuvolette speriamo si schiarisca perché è vero l'ultimo giorno ci facciamo un po' in tranquillità sto facendo colazione è molto presto ieri sono andato a letto alle 11 e un quarto tipo che era una cosa che non succedeva da non so da non so quanto tempo da non so quanto tempo non succedeva oggi sono abbastanza riposato cioè comunque ci ho messo un po' ad addormentarmi mi sono svegliato varie volte durante la notte l'anelli l'anelli comunque si muove si muove non è il massimo però tutto sommato è abbastanza bene doveva essere una brioche a marmeldato ma è alla crema ragazzi oggi sono in charge io del pranzo e quindi volevo fare un ottimo ragù un ottimo ragù è un ragù speciale perché l'ho fatto è quello che avete visto in un video tipo un paio di mesi fa solo che ci ho aggiunto i pelati e i pomodori avanzati l'antico ho tagliato in modo molto fino e il seba proverà tantissimo appena io faccio vedere sarà straordinario però non lo mangia ha detto quindi niente vabbè abbiamo delle brioche quindi l'importante voi prendete i pelati smaciullate poi aggiungete tutto il ragù quello che andate a rivedere il video che ho fatto ancora un paio di mesi fa e niente poi si mangia semplicemente io avrei consigliato tipo dei fusilli piuttosto che degli spaghetti solo che non c'è e quindi ci accontentiamo delle farfalle e va bene così e niente ragazzi una volta fatta la pasta va messa qualche minuto prima appunto nella padella la lasciamo un pochino attingere tutti i gusti, tutti i sapori dal nostro sugo, dal nostro ragù ed è praticamente pronta, ci siamo è un addio, bellissima giornata ma ci dobbiamo salutare perché anche le cose belle hanno un termine no, tampone dobbiamo sistemare la casa, tutte cose però diciamo siamo addirittura da arrivo appena finito di lavorare e ci auguriamo un pochino con questo aperitivo conviviale di fine giornata e stasera calcetto così chiudiamo il circolo della settimana di solito grazie a Fergara per la bellissima settimana lavorativa adesso noi stiamo per salpare, levare le ancore, salutare l'anelli e ci vediamo spero, spero, mamma mia capire, spero presto Lorenzo del futuro che fa finta di essere Lorenzo del passato quel giorno lì siamo riusciti dopo a tornare, tutto a posto, sistemare la casa poi siamo andati a giocare a calcetto dove mi sono massacrato le gambe il fiato ne ho tanto ma ho veramente poca tecnica ragazzi calcio, io e la palla non andiamo per niente d'accordo dovremmo fare pace prima o poi e non so neanche perché i miei amici continuano a propormi di giocare a calcetto visto che faccio letteralmente schifo cioè sono mano a pelle alle regole ma perché faccio l'abito di calcio non per altro e fatto sta che poi siamo tornati a casa e riposati quindi io vi invito come al solito mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale attivate la campanella fate in modo che il Dio Algoritmo conosca questo canale in profondità e così venga diciamo spanto come fosse l'olio sul tavolo nel Deep Mining di YouTube nel rabbit hole dei canali e niente ci sentiamo domani